E' più di un'agenda scolastica perché anche attraverso una serie di vignette affronta tematiche delicate come ad esempio il razzismo, la sicurezza sul web o l'educazione stradale. A Isernia il diario della Polizia di Stato per l'anno scolastico 2015-2016 è stato consegnato dal questore Vincenzo Bono agli alunni della scuola primaria dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII del Plesso di San Leucio. Dire è un incontro piacevole e riduttivo. L'amministrazione della pubblica sicurezza tiene molto a queste iniziative e proprio di ieri la consegna da parte del capo della Polizia del diario ad una scuola della provincia di Frosinone. Il mio diario non è per tutti. Per questo progetto voluto dal Ministero dell'Interno sono state infatti selezionate solo poche province in Italia. In questo ci riteniamo fortunati e ovviamente ringraziamo il capo della Polizia per averci dato questo onore. La società deve investire sui giovani, loro rappresentano il nostro futuro. Fondamentalmente ci sono i principi basilari del vivere civile e quindi il primo appello alla nostra Costituzione che è la base della nostra vita di tutti i giorni. Per la scuola Isernina la consegna dell'agenda scolastica giunge a coronamento di un progetto di educazione alla legalità. Abbiamo aderito a questa iniziativa con grande piacere ed entusiasmo. I nostri ragazzi hanno lavorato al progetto e noi docenti unitamente ai genitori abbiamo voluto confermare e affermare con forza questi valori fondanti della società, il rispetto delle regole, l'accettazione dell'altro e nella speranza e sicurezza di crescere i futuri cittadini del domani. Avete avuto già modo di dare un'occhiata a questo diario, sarà utile ai ragazzi? Sicuramente sarà utile sia dal punto di vista didattico perché servirà per prendere nota dei compiti e degli eventi scolastici ma soprattutto perché sono presenti note, vignette molto utili che riguardano la Costituzione e come dicevo il rispetto delle regole e della legalità.